Vizzerra è la nuova frontiera del project management. Con la nostra tecnologia trasferirete gli elementi di un progetto edile in un sistema interattivo in 3D, vedendoli in tutti i suoi dettagli, da ogni angolo su un unico schermo. Avrete tutto sotto controllo, ridurrete i rischi di progettazione e marketing, aumentando il valore del progetto per i vostri clienti. Il nostro è uno strumento utile soprattutto per progetti su vasta scala, che coinvolgono numerosi uffici di progettazione e organizzazioni come il Soccorso Stradale o gli Enti Nazionali di Controllo Qualità. Vizzerra non sostituisce software CAD, ma offre maggiori possibilità ai progettisti che potranno trasferire i loro progetti in 3D in modalità interattiva e simulare ogni tappa della costruzione. È un controllo qualità perfetto e un ottimo strumento di decision making. Vizzerra è una macchina del tempo accessibile. Per gli imprenditori edili è fondamentale vendere i propri progetti il più presto possibile. La nostra tecnologia consente ai clienti di vedere i progetti già completati e da ogni punto di vista. L'interno, l'esterno, le aree circostanti, i garage sotterranei, eccetera. Il modello è al contempo bello e interattivo. Potete pubblicarlo sul vostro sito web e iniziare a vendere immediatamente. Il cliente può interagire con l'ambiente 3D, misurare le distanze e o gli interni, inserire oggetti in 3D, come cespugli o mobili, guardare dalla finestra proprio come nella vita reale. Gli strumenti sono facili da utilizzare. Il cliente avrà così una visione completa della proprietà. In questo modo faciliterete il processo decisionale nell'acquisto del vostro progetto. È una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Come esempio di riduzione dei costi e di una buona pianificazione iniziale, vi mostro un progetto edilizio che abbiamo realizzato molto prima della costruzione. Sulla copia in 3D, il cliente vide che un costoso attico si affacciava su un vecchio edificio. Questo avrebbe ridotto notevolmente il prezzo dell'appartamento. Gli architetti decisero pertanto di alzare la parete del balcone, nascondendo così il vecchio edificio. Vizzerra apre nuove opportunità agli offerenti. Ecco un altro esempio. Alcuni progettisti industriali che partecipavano ad una gara d'appalto volevano presentare il progetto in un modo nuovo, che avesse impatto sul fabbricante. Ordinarono così un modello di elicottero in 3D da simulare nel mondo reale. Prendemmo dei progetti CAD e li trasferimmo su un modello 3D a grandezza naturale, inserendolo nell'ambiente reale. Durante la presentazione, gli organizzatori della gara potevano vedere l'elicottero sia dentro che fuori. Non solo. Presero il comando e sorvolarono l'antica città degli Incas. Questo creò un incredibile effetto partecipativo. Risultato. I nostri partner vinsero la gara. I nostri soci spagnoli ci mostreranno un altro aspetto interessante dell'uso di Vizzerra. A Barcellona, un noto studio di architettura sta ricostruendo un intero quartiere. Una condizione per ottenere questo grosso ordine era che i residenti e il comune potessero monitorare l'intero processo di trasformazione della città. Col nostro strumento, lo studio trasferirà tutti i progetti in un modello interattivo in 3D e lo pubblicherà su Vizzerra.com. L'andamento del progetto sarà così disponibile al pubblico, che riceverà tutte le notifiche sulle modifiche in tempo reale. Ecco come il coinvolgimento dell'utente reso possibile dal 3D diventa un importante vantaggio competitivo sulla concorrenza.